In uno dei più prestigiosi negozi di Arezzo, lunedì, ci sarà una giornata particolare, quella della bellezza sostenibile. In che cosa consiste? Dunque, noi abbiamo aderito a un progetto per la foresta del Madagascar e facciamo una giornata per la bellezza sostenibile che praticamente noi diamo tutto in beneficenza e i clienti possono venire e fare un taglio, una piega e poi possono lasciare quello che credono che sia giusto lasciare, cioè noi tutto quello che in questa giornata viene fatto viene dato in beneficenza. Una cosa importante perché abbiamo già detto che è un negozio molto prestigioso, perciò un atto sicuramente di grande solidarietà per l'umanità al vostro. È una goccia in mezzo al mare, cioè se tutti noi, ognuno di noi fa qualcosa, specialmente per il verde è una cosa bellissima, questo è un progetto che va avanti da tanti anni, noi la prima volta che aderiamo è una cosa che vogliamo fare molto spesso. Perciò chiunque voglia venire e voglia avere finalmente un taglio eccezionale da Lella Pepe, lunedì è la giornata giusta.